Classifica del Sole 24 Ore che premia l'Università di Verona, come l'anno scorso, primi anche nel campo specifico della ricerca, un ottimo risultato che conferma i risultati ottenuti negli scorsi anni. Sì, i parametri, gli indicatori utilizzati sono le valutazioni ANVUR dei singoli docenti, quindi faccio complimenti a tutti i docenti che lavorano in questo Ateneo perché chiaramente ci hanno portato al primo posto. Così come ci hanno portato al primo posto l'alta formazione, la qualità dei nostri dottorati che è risultata sempre attraverso ANVUR al primo posto insieme con il Politecnico di Torino e sappiamo che il Politecnico di Torino è molto specializzato mentre noi siamo più generalisti, quindi è un motivo di molto vanto perché siamo eccellenti in tutte le aree in cui il nostro Ateneo si esplica e poi l'intercettazione dei fondi, l'intercettazione dei fondi è molto importante e quindi dobbiamo però fare in modo che in tutti questi tre indicatori mantenere queste posizioni non sarà facile, lo sappiamo bene, dobbiamo portare sempre più in alto il nome di questa università. Ottimi risultati anche per quel che riguarda gli stage e l'occupazione dei laureati. Assolutamente sì, quest'anno abbiamo dato clamoroso, primi in assoluto tra gli Atenei italiani e ottimi dati su occupazione e stage, rispettivamente terzi e quinti per occupazione e per stage. Questo significa che evidentemente abbiamo seminato bene, stiamo raccogliendo tutti i migliori risultati, nel senso che l'occupazione funziona così bene proprio perché i nostri laureati riescono a fare esperienze lavorative durante l'arco della loro formazione. Classifica adesso le 24 ore che oltre al primo posto generale vede un ottimo piazzamento per quel che riguarda la didattica, testimonianza della bontà del percorso intrapreso. È un dato che ci fa molto piacere naturalmente, ci conferma che la direzione presa è quella giusta. Ripeto che secondo me la formula che stiamo utilizzando ora della massima attenzione all'offerta formativa attuale, con un'apertura prudente ma convinta verso iniziative nuove, è quello che sta premiando il nostro Teneo dal punto di vista della valutazione della didattica. Ho visto con grande soddisfazione i dati che riguardano sia la sostenibilità, sia il tasso degli abbandoni, che per fortuna si sta riducendo, quindi su 100 studenti iscritti al primo anno ben 78 si iscrivono al secondo anno, e il numero di crediti formativi acquisiti dallo studente nel primo anno. Voi sapete che per ogni anno accademico lo studente deve portarsi in carriera a 60 crediti formativi universitari e la media nostra è intorno ai due terzi, quindi poco meno di 40 crediti.